Ciao amiche, vi faccio vedere come pulisco il tappeto. Prima di tutto vado a dare una bella aspirata con anche la massima velocità e poi vado a cospargere tutto il tappeto di bicarbonato che lascio agire per 10 minuti. Subito dopo con questo detergente che avete visto schiumogeno per tappeti vado a districare bene bene il tappeto e poi lo lascio a riposo per circa un'oretta. Vado poi nuovamente a riaspirare con la Dyson o con qualsiasi aspirapolvere e questo è il risultato ragazze. Un bacione grande grande da me e dal piccolo Gray.